A Giarra entra in vigore il senso unico in via Federico II di Svevia nel tratto finale compreso tra la via Piola Torre e Viale delle Province, istituito con ordinanza sindacale numero 8 del 1 febbraio scorso. La via sarà percorribile solo in discesa, in direzione ovest verso est, mentre per imboccare via Federico II di Svevia in direzione ovest in salita sarà necessario percorrere la via Mattarella e quindi la via La Torre.